Sono pugliesi i due sindaci più apprezzati d'Italia secondo Data Media. Si tratta di Michele Emiliano, primo nella classifica delle città metropolitane avanti a Torino, a Milano, e Paolo Perrone, primo nella classifica dei capoluoghi di provincia unico meridionale. Due dati significativi per il sud, per la nostra regione su cui si potrebbero dire tante cose. Prima fra tutte che a vincere sono le persone e le loro politiche piuttosto che la politica che rappresentano. Emiliano e Perrone di schieramenti opposti che addirittura rischiano di essere contrapposti alle prossime regionali ne sono l'esempio, perché il loro primato in monitor città per Data Media non è un fuoco di paglia ma addirittura una riconferma. Essere un buon sindaco ed apprezzato da tutti, bisogna dirlo, non è cosa facile e non è cosa da tutti. Diceva Pericle nel discorso agli Atenesi Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato ma non come atto di privilegio, ma come ricompensa al merito. Qualcuno direbbe meditate gente, meditate. Ci ritroviamo anche oggi se volete su ilikepuglia.it e sui nostri social di riferimento. Arrivederci. Grazie.